Il 12 novembre 1929 nasce a Filadelfia, negli Stati Uniti, la grande attrice e poi principessa Grace Kelly. Lei rappresenta per certi versi un modello di bellezza quasi inarrivabile, irraggiungibile, addirittura algida per alcuni, e dall'altra parte il sogno femminile della favola del principe azzurro. Grace Kelly è nata da una famiglia cattolica di origine irlandese e è diventata famosa per, vincendo anche l'Oscar con il film La ragazza di campagna, e poi in particolare è diventata famosa per l'interpretazione di alcuni film di Alfred Hitchcock, in particolare La finestra sul cortile e Caccia al ladro. E proprio registrando il film Caccia al ladro a Monte Carlo conosce il principe Ranieri di Monaco. I due si innamorano e, oltre ovviamente all'innamoramento, a Ranieri questo fa gioco, perché non soltanto Grace Kelly è una ragazza bellissima, ma anche gli permette, potendogli dare dei figli ed essendo cattolica come lui, di poter prolungare la dinastia dei Grimaldi a Monaco e quindi evitare che la Francia di De Gaulle potesse incorporare il principato di Monaco. La vita dei due diventa un sogno, una favola. Grace Kelly abbandonerà completamente, tranne proprio gli ultimi anni della sua vita, la carriera cinematografica e darà al principato tre figli. Morirà però tragicamente in un incidente automobilistico mentre era alla guida della sua auto nel 1982.